altri, Paola potrebbe parlare meglio di me, di santi o di mistici moderni, persone che sono morte 10, 15, 20 anni fa, nonostante queste presenze, che cosa è successo? Che un po' alla volta, un po' alla volta, se si va appunto nelle librerie, gli scaffali sui testi che parlano degli angeli sono soprattutto di matrice esoterica, occultistica, new age, cabalistica, creando una grande confusione. Quindi ha detto bene quel sacerdote gesuita, che qualche anno fa ha fatto un libro che è stato pubblicato da Città Nuova, ci hanno rubato gli angeli, però ci hanno rubato, noi ce li siamo lasciati rubare. Secondo punto, brevissimamente, altri gruppi promotori sono stati per esempio i Fratelli delle Scuole Cristiane, fondati da San Giovanni Battista della Salla, che era devotissimo agli angeli, perché diceva che i religiosi insegnanti, i fratelli, facevano le veci sulla terra, ancora di più, degli angeli custodi, dei cieli, dei bambini e dei ragazzi. Ecco allora, dei gruppi che attualmente diffondono la devozione agli angeli, c'è da dire che questi gruppi non sono così numerosi come magari i gruppi che diffondono la devozione alla Madonna, no? O a San Giuseppe addirittura. I gruppi che diffondono oggi la devozione agli angeli sono molto pochi, sono poco numerosi, sono poche decine di persone che fanno parte di questi gruppi, soprattutto non c'è un coordinamento tra questi gruppi. Quindi cerchiamo di farlo noi, ma i risultati sono quelli che sono, no? Cioè, è una cosa strana, nonostante che un buon 60-70%, poi Menegotto ci dirà meglio le statistiche, dico bene, 60-70% di persone crede in un modo generico agli angeli, nonostante che c'è uno zoccolo duro molto forte di cattolici che crede agli angeli, però queste persone sono lasciate un po' a se stesse, cioè sono isolate, non esistono dei gruppi che li sanno in qualche modo formare. Ecco, allora, in Francia esiste l'Associazione dei Santi Angeli Custodi, la sede centrale a Lione, ed è stata animata fin dal 1891 dai Chierici di San Viatore, una piccola congregazione religiosa perché il loro fondatore, che io non so pronunciare il francese, si chiama? Kerbe. Il loro fondatore, espressi il desiderio negli ultimi anni della vita che ci fosse una confraternita agli angeli. Ecco, la finalità dell'Associazione di Lione è quella di far conoscere e amare gli angeli con una vita cristiana più approfondita. Ecco, bisogna chiedere per iscritto, ecco, la propria adesione e poi anche i bambini possono essere iscritti a richiesta dei loro genitori. Vi mandano un'immagine dell'Angelo Custode con un attestato. Ecco, l'iscrizione si fa una sola volta nella vita tramite un'offerta libera. Ecco, poi per mantenere il contatto tra gli associati si raccomanda di abbonarsi a questa rivista in francese, una rivista bimestrale, l'Angelo Custode, che è un bollettino che esce sei volte l'anno. Ogni numero ha circa 65 paginette. Però, dopo, se venite qua e lo sfogliate, io ho diverse annate di questa rivista, su 65 paginette, con Alfonso la traduciamo perché Alfonso parla bene il francese, si e no, Alfonso, 5-6 paginette neanche. Si chiama Angelo Custode, ma quasi niente dice degli angeli, no? Per molti anni il direttore di questa rivista è stato un santo sacerdote che aveva la bellezza di 85 anni, 86 anni, insomma, l'anno scorso ha lasciato, teneva 95-96 anni. Per dire, come può un uomo di 90 anni portare avanti, no? E quindi, perché vi dico questo? Perché tutto sommato è un apostolato veramente minimo, ecco. Questa associazione ha stampato alcuni libretti che in Italia sono stati pubblicati dall'edizione segna. Se Alfonso li piglia un secondo? Le abbiamo anche fuori, costano pochissimo. Sono libretti molto gustosi. Questi qua sotto. Sono qua i 9 Cori Angelici, San Gabriele alla forza di Dio, San Michele chi è come Dio, l'Angelo Custode 1, l'Angelo Custode 2, San Raffaele, Dio ha guarito. Sono dei libretti che hanno fatto questi qua di questa associazione. Sono articoletti presi che le edizioni segno hanno stampato. Sono molto graziosi, costano anche poco. Se li volete leggere, vi faranno molto bene. Ecco. Poi c'è un'altra associazione che si chiama Filangeli, cioè Amici degli Angeli, che anche sempre questi chierici di Sanviatore portano avanti. Ecco. Però non hanno niente a che fare con la confraternia di Leone, di Lione, pardon. È un'associazione, i Filangeli, che sono stati fondati in Inghilterra, ecco, negli anni 50. Poi c'è il gruppo molto meritevole, che è anche molto calunniato, è quello dell'Opus Angelorum, Opera degli Angeli, che è stato creato il 25 aprile 1949 in Austria da Gabriele Bitterlich, una donna austriaca. Ecco, questo, a mio avviso, è l'unico movimento veramente serio, a livello mondiale, di devoti agli angeli. Ecco, attualmente il movimento è portato avanti dai canonici regolari della Santa Croce di Coimbra. Sono andati via, ma ieri abbiamo visto padre Gioacchino Wells, che ha guidato la supplica ai Santi Angeli. È una preghiera che viene diffusa dall'Opus Angelorum, e poi il padre William, che ha parlato della consacrazione ai Santi Angeli. Sono circa un centinaio in tutto il mondo i canonici della Santa Croce, fanno un grande lavoro di diffusione attraverso dei ritiri spirituali. In Italia fanno dei ritiri a Trento, a Napoli, quindi chi di voi abita in Campania, può anche a Cappella Cangiani fanno i ritiri. Li fanno a Roma, li fanno a Venezia, e ogni anno fanno ben tre ritiri spirituali, di tre, quattro giorni fatti molto bene, a Monte Sant'Angelo, al Gargano. Infatti io tutti e tre i ritiri me li vado a fare sempre con loro. Io sono sacerdote ormai da 16-17 anni, ho fatto tanti ritiri, ma veramente fanno dei ritiri meravigliosi. Quindi, ripeto, se vi mettete in contatto con loro, la vostra devozione agli angeli sarà fortificata sotto tutti i punti di vista. Ecco, l'Opus Angelorum. Poi in Italia ancora c'è la confraternita di San Michele Arcangelo al Gargano, però pure lì non si fa quasi niente. Cioè tu dai il tuo nome, ti danno una piccola pagellina, ogni tanto fai un colloquio spirituale con il direttore, che sarebbe il rettore del santuario, ma il povero rettore del santuario ha tantissimo lavoro da fare. Quindi è più, come dire, sei segnato nel numero dei devoti di San Michele, quando muori ogni anno ti celebra una messa. Però non è che si faccia un apostolato veramente angelico. Così pure a Roma c'è la collegiata di Sant'Angelo in pescheria. Ci siamo andati con Paola Giovetti una volta, un altro luogo la chiesa ci cadeva addosso. È così. Una volta al mese, il lunedì pomeriggio alle 4, tanto per incoraggiare la gente, il lunedì pomeriggio alle 4, neanche la domenica alle 4, il lunedì pomeriggio alle 4 celebrano una messa e fanno la consacrazione a San Michele. Una volta davano lo scapolare, ma hanno dato pure lo scapolare, ti danno una medaglietta per dire che grande apostolato fanno per diffondere gli angeli. Poi c'è un altro piccolo gruppetto, questo qui, Compagnia di San Michele Arcangelo, che stanno in un santuario nella zona di Cortona, Arezzo, pure cercano di fare qualche cosina. Sul libro di Paola Giovetti, dedicato a San Michele, c'è tutta una lista di gruppi e di movimenti che diffondono la devozione agli angeli. Ecco, per esempio, poi ci sono anche i fratelli di San Michele che si trovano in Francia. E poi ci siamo noi, il gruppo della Milizia, che è un gruppo piccolissimo, noi siamo 15-20 persone che lavoriamo, i simpatizzanti sono diverse centinaia, però insomma siamo veramente pochi e che cerchiamo di fare qualche cosa. Questo gruppo è nato negli anni Sessanta su ispirazione di Padre Pio. l'ha creato Monsignor Delton, che era un latinista del Vaticano, che è morto ultra novantenne, che ha fatto un bel libro che ancora si trova in circolazione, Angeli Arcangeli della casa editrice Giardini, ancora si trova, se voi lo chiedete, un bel libro. Penso che Paola Giovetti l'ha conosciuto. Con diversi sacerdoti, molto santi, hanno messo questo gruppo. Poi questo gruppo si è estinto. Io chiamai l'abbate Egger che avevo...